Il Polo Culturale per l'Arte Contemporanea è nato con l'associazione tra il Museo Maga e l'Assessorato della Cultura del Comune di Legnano per la gestione anche di Palazzo Leone da Perego. Essendo un polo culturale, le attività vengono progettate da un comitato scientifico comune, le collezioni del Maga diventano anche il punto di partenza del Palazzo Leone da Perego, con l'affondo anche su artisti italiani e internazionali che hanno evidenziato e creato la scena artistica italiana da Seconda Dopoguerra ad oggi. A tutti gli effetti si tratta di una programmazione in comune e anche proprio di un'estensione della progettualità del Maga, comprese le attività educative, alla città di Legnano. Abbiamo già aperto anche i dialoghi con i protagonisti della città di Legnano, le associazioni culturali, il teatro, il cinema e abbiamo già aperto il dialogo con le scuole. Quindi contiamo di poter davvero aiutare a coordinare l'arte contemporanea nell'area metropolitana e nella Grande Milano. Grazie. Grazie.